Presidente Cesarano, arrivare fino alla finale dopo un grandissimo percorso e poi quasi non giocarla? Eh vabbè, andare a Roma e non vedere il Papa, no? Però va bene lo stesso. Tra le due squadre doveva vincerne una, una gara che dura due tempi da 45, allora hanno fatto due gol, uno e zero, è giusto che sia così. Cosa può viimproverare a questa squadra solo per la partita di oggi? Forse i ragazzi sono scesi in campo troppo tesi o magari non sono scesi proprio con la testa. Ecco, questo. Il percorso di campionato è ancora tutto da compiere, la Scafadesi è in piena corsa sia per la vittoria finale sia per il miglior piazzamento playoff, insomma la Serie D che all'inizio del campionato nessuno l'aveva accennato può essere un obiettivo fattibile? Eh vabbè, ma noi ce la giochiamo con tutti quanti, poi il calcio è fatto così, a fronte di una gara del genere magari con una certa importanza non riesce a essere concentrato e fa una brutta gara. Così sono anche le gare di campionato, noi ce le giocheremo tutte quante fino alla fine, tenteremo anche di andare all'Interregionale, ma i conti si faranno alla fine. L'Interregionale adesso ancora non ci penso, io penso a giocare domenica prossima con la Mariglianese, che è una gara dura e penso che i ragazzi devono concentrarsi per giocare domenica. Poi alla fine del campionato faremo la somma e vedremo. Le prime parole che dirà ai calciatori magari domani alla ripresa degli allenamenti? Eh vabbè, adesso mi fai una domanda da un milione di dollari, tu sai che io sono molto sensibile, quando domani andrò al campo li guarderò in faccia e vedremo quello che mi verrà. Ma comunque bravi almeno fino ai primi di 90 minuti di oggi, bravi fino al Gragnano, poi dopo meno bravi.